salve amici dato che la situazione tattica al fronte sta mostrando che gli attacchi russi vengono continuamente respinti e ci sono enormi perdite che l'esercito ucraino lentamente sta riconquistando terreno bisogna chiedersi a questo punto fino a quando putin continuerà a insistere nel recriminare territori conquistati e non conquistati visto che non è più così scontato che riusciranno a tenerli e soprattutto nel caso di un cessato il fuoco cosa farà la russia avrà le risorse per ricostruire città industrie e la società civile che è stata spazzata via in questi due anni a queste domande ho cercato di rispondere raccogliendo informazioni sentendo le parole e le analisi di molti miei colleghi qui su youtube come si dice facendo anche controlli incrociati per capire se ci fossero pareri diversi idee versioni diverse e purtroppo no sono tutti sulla stessa linea perché ormai è evidente quello che sta accadendo c'è poco di cui discutere e siamo arrivati anche al punto in cui la stessa televisione russa inizia a vacillare nelle sue dichiarazioni di propaganda orwelliana più convinta la notizia dell'altro ieri se l'avete colta sul fatto che le maggiori emittenti televisive e organi di stampa europei sono stati oscurati in russia e ha un significato molto chiaro significa che il regime di putin ha paura della verità nel modo più assoluto e vuole assolutamente evitare che la popolazione russa possa accedere ad informazioni diverse per capire cosa sta succedendo al di là dei discorsi sulla qualità dell'informazione che è stata oscurata di fatto questa censura è per evitare che al tuo popolo arrivi una narrazione diversa dalla propaganda che gli vuoi raccontare e questo è un fatto apparentemente minore ma di una gravità straordinaria ma è un segnale veramente terribile che riguarda la disperata ricerca di nuova fanteria da mandare al massacro e vedremo più avanti perché l'unico altro paese che ha fatto una cosa del genere è la corea del nord per intenderci il che è tutto dire quindi cosa sta succedendo quali sono i numeri delle forze armate russe quali sono state le perdite fino ad oggi sulla base di questi numeri possiamo farci un'idea di quello che accadrà in futuro per delineare questi aspetti ho diviso il video di oggi in due parti quindi oggi affronterò la prima parte che riguarda un po il come è iniziata questa guerra e perché nella seconda parte invece analizzerò i numeri che sono stati utilizzati e se questi numeri danno un indice se questo conflitto potrà continuare ancora a lungo come sempre prima di iniziare cari amici vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un mi piace se apprezzate quello che sto facendo e volete più aggiornamenti sul conflitto video dedicati all'analisi militare alla storia militare l'aviazione è inutile dire che il vostro supporto è fondamentale due anni fa era febbraio 2022 vladimir putin prendeva una delle decisioni più importanti nella storia del dopoguerra decisione che avrà delle conseguenze enormi con un impatto globale negli ultimi tre mesi aveva accumulato truppe e materiali lungo il confine la flotta aveva attraversato lo stretto di gibilterra dirigendosi spedita verso il mar nero per me e per tanti altri analisti militari era ovvio che l'invasione era imminente nonostante qualche buon tempone nostrano che continuava a parlare di esercitazioni le tensioni geopolitiche con l'europa erano in aumento dovute essenzialmente al fatto che la russia non sopportava più che sempre più regioni della sua vecchia sfera di influenza manifestavano il desiderio di entrare nella nato erano anche preoccupati dalla sostenibilità a lungo termine dell'occupazione della crimea che l'ucraina non aveva di certo accettato di buon cuore per gli stati uniti che avevano osservato molto scrupolosamente ogni movimento delle forze di terra e navali russe era ovvio che un'invasione su larga scala era imminente ma quello che fu evidente allora come oggi è che putin stava commettendo un errore grossolano e imperdonabile circondandosi nel corso degli anni di uno staff di adulatori incapaci di contraddirlo dati i rischi ovvi di perdere il posto o sparire i piani di invasione che gli erano stati presentati sul tavolo raccontavano di una campagna facile facile di qualche settimana per liberare un paese che sostanzialmente chiedeva di essere liberato e diventare di nuovo russo nel giro di poche settimane divenne presto chiaro che un'invasione su larga scala che avrebbe spazzato via l'ucraina come fece hitler con la francia nel 1940 non sarebbe stata possibile forse i suoi generali promisero che la guerra sarebbe stata un gioco da ragazzi e che le perdite di vite umane e mezzi sarebbero state compensate dalla conquista di enormi distese di campi di grano industrie città e guadagni materiali ma come dire tutto questo solo nella fantasia e senza considerare le enormi ripercussioni internazionali delle sue azioni quindi bisogna chiedersi perché questo errore tattico così superficiale davvero i vertici militari e i consiglieri russi credevano di riportarci indietro negli anni 40 del ventesimo secolo mentre stati uniti ed europa sarebbero stati a guardare senza far niente soprattutto perché uno come putin che a detta di molti era un brillante uomo politico e stratega ex capo del kgb ha commesso una scelta così sbagliata e dall'esito così prevedibile secondo la maggior parte delle testate giornalistiche internazionali è diventato di moda attribuire la colpa della situazione creatasi in ucraina a qualche insondabile ed incomprensibile per noi occidentali linea di pensiero o mentalità russa ma è troppo facile dire questa cosa o ridurla ad una mera differenza culturale ho sentito spesso questa affermazione che noi non possiamo capire che per noi è diverso che per i russi non si tratta di invadere ma di liberare eccetera eccetera io non credo proprio che sia così ho conosciuto qualche russo nella mia vita sono persone come noi la pensano come noi e spesso sono molto più incazzati di noi per quello che fa il loro governo invece se possiamo individuare un'origine degli eventi che hanno portato alla guerra in ucraina forse sarebbe il caso di puntare il dito sul decadimento istituzionale della russia alla fine degli anni 90 al suo arretramento democratico iniziato nel 91 con la fondazione della russia e con boris yeltsin prima e l'ascesa al potere di putin nel 1999 con un'ampia maggioranza poi come si sa venne rieletto nel 2004 ma nel 2008 si trovò ad affrontare un problema costituzionale che impediva ai presidenti russi di servire per più di due mandati consecutivi ma come si dice no sappiamo benissimo che i politici della costituzione a volte se ne possono fregar di meno come certa gente che da noi annunciava di usarla come carta igienica ma putin a quel punto posto che la carta costituzionale non fosse un problema insormontabile nel frattempo in quegli anni aveva silenziosamente eliminato qualsiasi istituzione che potesse metterlo alla prova e fra le altre cose se qualcuno si ricorda ai nostri anni 90 cosa significa conflitto di interessi durante i governi i governi di berlusconi in cui giustamente qualcuno disse che forse non è proprio il massimo se il presidente del consiglio di una nazione è proprietario e gestisce le televisioni beh putin come si dice aveva nel frattempo preso il controllo di tutto radio tv telegiornali con una politica televisiva molto molto chiara o sei pro putin o non vai più in onda chiaro la libertà di stampa insomma in russia non esisteva più di fatto giusto per darci un'idea e non prendetevela è filo russi filo qualcosa filo qualsiasi cosa quello che non importa esiste una classifica mondiale per la libertà di stampa che considera elementi ultra negativi come per esempio il fatto che il governo controlli i media che compia ogni tipo di minacce a scrittori e giornalisti fino ai casi più gravi come farli sparire nei modi più fantasiosi e disparati insomma per intenderci è la classifica di quanto un paese corrisponde al racconto 1984 di george orwell bene l'italia per intenderci con la sua situazione penosa che conosciamo se parliamo almeno da un punto di vista di stampa e televisione che sono a larga maggioranza controllati dai partiti politici di turno con le minacce le querele le denunce che vengono quotidianamente fatte a chi prova a scrivere articoli o libri fino ai picchi massimi di penosa della talk show in cui si sbandiera la cosiddetta par condicio in cui per legge se si invita un esperto su una particolare materia bisogna anche invitare un perfetto imbecille a dire il contrario cosa che fra l'altro ha avuto l'unico risultato di far diventare gli italiani analfabeti funzionali e bipolari senza poi escludere influenze dagli stati uniti come per esempio il sopravvento del politicamente corretto a tutti i costi beh la frittata in italia è stata fatta solo per queste cose insomma il nostro paese fa penosamente schifo al 41esimo posto della classifica forse ci salva giusto ci si salva giusto per internet dove ancora con certi limiti io e i miei colleghi proviamo a parlare chiaro almeno fino a quando sarà possibile quindi se pensate che la libertà di stampa in italia fa pena in una posizione giusto fra taiwan e il botuana che non so neanche dove sia sappiate che la russia è al 148esimo posto su 179 paesi vicina a nazioni dove per esempio c'è la guerra civile o non ci sono neanche i servizi di base e fra l'altro non fa che peggiorare i dati del 2024 sono completamente in rosso proprio grazie alle belle notizie dell'altro ieri e penso che con questa azione di oscuramento putin farà scivolare agilmente il paese in fondo alla classifica insieme alla corea del nord dove se parli male del regime non solo vinci il soggiorno in cella a vita se ti va bene ma anche un trattamento di bellezza chiamato lobotomia quindi premesso che l'unione sovietica e il comunismo non esistevano più che venivano sostituiti da da un'autocrazia putin senza nessuno che potesse ostacolarlo e volendo tuttavia mantenere vive certe apparenze alla fine del secondo mandato lasciò volentieri la carica di presidente con dimitri medvedev che prendeva il suo posto ma come si dice piuttosto che ritirarsi a vita tranquilla pescare eccetera eccetera putin decise invece di insinuarsi nella posizione di primo ministro per quella che fu evidente a tutti come una semplice mossa pro forma per continuare a controllare tutto quanto cosa più incredibile l'articolo 81 paragrafo 3 della costituzione russa vietava solo tre mandati consecutivi non diceva nulla in termini di mandati non consecutivi parliamoci chiaro a quel punto era evidente a tutti che nonostante le apparenze c'era sempre putin al governo in russia quindi semplicemente nel 2012 ritornò in carica questa volta con unabile modifica alla costituzione per un mandato di sei anni nel 2018 con il peso della sua influenza nei media e sugli organi principali del paese vinceva così il quarto mandato e nel 2024 il quinto e oggi insomma è il faraone di osceso in terra dei filo putiniani in italia mentre in russia le madri di mezzo milione di ragazzi mandati a morire al fronte non possono neanche piangere in casa ma l'altra faccia della medaglia è che appunto quando controlli tutto non ci sono istituzioni di garanzia e bilanciamento anzi controlli quelle stesse istituzioni che dovrebbero bilanciarti a quel punto tutto quanto degenera e porta inesorabilmente alla rovina del paese nel 2018 dopo aver vinto il suo quarto mandato putin si pose l'obiettivo di estendere l'influenza della russia in ucraina in parte per contrastare l'influenza della nato nei paesi dell'ex unione sovietica in parte per fermare lo spostamento stesso dell'ucraina verso la nato dopo la rivoluzione maidan in quel momento sul tavolo gli si presentarono le possibilità di usare la forza per ottenere nuovi territori a questo scopo i servizi di intelligenza russa rinominati come servizi per la sicurezza federale dal 1995 furono appunto interrogati dal governo per rispondere a due semplici domande come avrebbe reagito l'occidente e la comunità internazionale ad un'eventuale invasione militare dell'ucraina la seconda domanda era gli ucraini si sarebbero opposti all'invasione o avrebbero accolto l'esercito russo come una forza di liberazione per quanto riguarda la prima questione mosca era al corrente che stati uniti e europa sostenevano l'ucraina almeno a grandi linee e che avevano accolto positivamente la rivoluzione maidan del 2014 ora non entrerò nel merito di questa rivoluzione anche perché in giro è pieno di siti che fanno discorsi dietrologici e complottisti che affermano che ci sia stata la cia dietro ogni cosa ci credo poco cioè molto relativamente e fino a un certo punto voglio dire guardate in italia tanto per fare un esempio al contrario abbiamo avuto uno come salvini che indossava le magliette di putin perché lo faceva ve lo siete chiesto per quelle spinte in italia da parte del governo russo più o meno ci sono state rivoluzioni operate dalla lega in italia la russia è corsa a liberare la pianura padana voglio dire sto scherzando ma è per fare un esempio nel senso ogni paese è influenzato e si sa gli stati uniti influenzano gli altri paesi lo fanno a volte anche passivamente con il loro enorme impianto mediatico con i film eccetera eccetera e poi ci sono anche i processi attivi la cia è storicamente molto abile nel fare manipolazioni di questo tipo tuttavia la storia di questa rivoluzione in ucraina è ben documentata e farci i ricamini complottistici e dietrologici è un po troppo riduttivo cioè troppo facile dire che la cia abbia fatto tutto da sola come in un film fantapolitico dove ci sono sempre i quattro attori del cast principali a tirare le trame di tutto quanto mentre muovere masse e cambiare società non è una cosa così semplice come avviene nei film giusto e basta ignorare l'enorme trave nell'occhio di anni di crisi economica l'impossibilità di avere accesso a finanziamenti internazionali la corruzione la cattiva gestione della cosa pubblica insomma i sempliciotti che additano l'europa come l'ente maligno che si espande ignorano che l'europa non si espande come un ente capace di vita propria sono i paesi in grave depressione economica e sociale che sognano di entrarvi perché vedono le nostre trasmissioni televisive sognano di essere come la famiglia del mulino bianco e questo succede anche in quei paesi più radicali e storicamente più vicini alla russia vedesi per esempio la serbia la popolazione non fa ragionamenti geopolitici no semplicemente desidera cose semplici i nostri elettrodomestici i divani i centri commerciali e ci sarà un motivo per questo le ragioni che portarono alla rivoluzione di maidan sono macroscopiche e complesse tanto grandi quanto è esteso il territorio ucraino la popolazione che in maggioranza voleva un cambiamento in tante regioni fese fece le sue scelte politiche con un cambio di governo nelle amministrazioni che è vero ricevettero anche un sostegno economico da parte degli stati uniti che finanziarono le riforme del paese ma al di là del fatto che putin non riconobbe queste votazioni e il nuovo governo di kiev per tornare alla prima questione posta ai servizi segreti nonostante fosse chiaro che un'invasione militare avrebbe comportato una denuncia e sdegno da parte della comunità internazionale non era certo che l'occidente si sarebbe schierato apertamente a seguito di un'invasione e quindi se l'occidente si fosse limitato a strillare senza fare nulla di sicuro la cina e l'india non avrebbero mosso un dito così nel 2014 quando il nuovo governo di kiev si schierò apertamente in posizioni filo europee la russia si affrettò rapidamente ad annettere la penisola della crimea e questo è stato il punto di svolta degli eventi dalla seconda guerra mondiale esiste una forte forte norma internazionale contro i cambiamenti unilaterali del territorio qualcosa che impedisce a un qualsiasi imbecille di svegliarsi la mattina e rivendicare per esempio la pianura padana o la polonia o la crimea l'articolo 2 sezione 4 della carta delle nazioni unite impone agli stati membri di astenersi dalla minaccia e dall'uso della forza contro l'integrità territoriale di qualsiasi stato la stessa russia membro costituente delle nazioni unite fra le altre cose nel 1994 aveva firmato il memorandum di budapest promettendo di sostenere il confine esistente in cambio da parte dell'ucraina del trattato di non ploriferazione delle armi nucleari errore fatale uno direbbe oggi perché magari quelle armi sarebbero state l'unica garanzia di non subire un'invasione da parte russa in futuro in sostanza dopo i fatti georgiani del 2008 che ebbero la stessa gravità e violazione del territorio ma di entità minore l'annessione della crimea è stata la più grande violazione dell'integrità territoriale dai tempi della germania nazista e qual è stata la reazione dell'occidente beh per dirla in modo semplice l'occidente si è limitato a dire a putin che si è comportato come da una brutta persona con un pacchetto di sanzioni economiche che ovviamente si era aspettato è chiaro alcuni imprenditori oligarchi russi vicini a putin furono colpiti nei loro profitti ma a parte questo se guardiamo l'annessione della crimea e la paragoniamo alla reazione degli stati uniti e della nato a quello che avvenne nel 90 in quate per opera dell'esercito di satan beh ci accorgiamo che c'è un'enorme differenza perciò anche con l'invasione che poi è avvenuta nel 2022 l'occidente non ha reagito come avvenne con la guerra del golfo dichiarando guerra alla russia giusto ma si è limitato a erogare sanzioni che non hanno impedito o ostacolato più di tanto la produzione militare russa ci sono state delle azioni come per esempio espellere la russia dal g8 l'assemblea generale delle nazioni unite ha approvato la risoluzione 68 262 che stabilisce l'integrità territoriale ucraina che quindi condanna l'invasione ma ovviamente ironia della sorte nessuna risoluzione dell'onu può mai passare dato che la russia essendo uno delle nazioni costituenti si è riservata il diritto di veto quindi alla russia non importa un accidente di quello che dice l'assemblea delle nazioni unite e le nazioni costituenti sono appunto russia cina inghilterra francia e stati uniti ed è per questo motivo che da tanti da tempo insistono col dire che l'onu dovrebbe essere sciolta e bisognerebbe fondarne un'altra e io su questo sono d'accordo perché appunto rispetto alla seconda guerra mondiale tutti quei buoni propositi sono morti e sepolti già da tempo con l'inizio della guerra fredda negli anni 50 almeno fra le altre cose dal 2014 al 2022 negli stati uniti c'è stato un periodaccio di debolezza politica in generale con certi personaggi surreali uomini veramente brutti sia dentro che fuori in quegli anni fra le varie dichiarazioni fatte e le false promesse si parlò della fornitura di armi statunitensi agli ucraini proprio per rafforzare il dunbas questa cosa se vista con la prospettiva di oggi possiamo solo immaginare che impatto avrebbe avuto per fermare l'invasione iniziale se fosse stata approvata così in anticipo le armi non arrivarono mai perché durante l'amministrazione trump che volendo polarizzare l'industria delle armi lo portarono proprio allo scandalo di impeachment che lo fecero capitolare nel frattempo la germania aveva condotto politiche di apertura politica verso la russia e si era dimostrata debole o quantomeno disposta a perdonare e tollerare l'annessione della crimea nella prospettiva di aprire il nord stream 2 gli interessi economici per le forniture energetiche con i politici direttamente coinvolti a livello di consiglio di amministrazione del nord stream portarono a scetticismo circa le sanzioni contro la russia e per questo la risposta dell'europa non fu coerente e piuttosto distante queste incoerenze e le tante voci diverse nel consiglio europeo il fallimento del governo trump furono interpretati dalla russia come un chiaro segnale che l'occidente non riusciva a mettersi d'accordo su niente e che quindi non avrebbe fatto nulla in caso di un'invasione i servizi segreti russi diedero a putin un bel rapporto in cui si diceva vai tranquillo se invadi l'ucraina quelli si mettono a litigare fra di loro e non fanno niente ma oggi in realtà sappiamo che la storia era molto diversa che l'unione europea stava silenziosamente osservando e il dibattito interno verteva essenzialmente sul come intervenire nel caso putin sarebbe stato così folle da provarci quindi l'intelligence russa aveva sbagliato profondamente nel rispondere alla prima domanda come si dice sottovalutando ampiamente una reazione dell'occidente la seconda questione su quanto l'ucraina si sarebbe difesa o se avesse accolto l'esercito russo a braccia aperte beh l'intelligence russa di certo sapeva che l'invasione del paese non sarebbe stata una passeggiata come l'annessione della crimea nel 2014 ma oggettivamente l'ucraina non aveva una lunga storia orientata all'autonomia i voti indipendentisti del 1991 avevano evidenziato che la stragrande maggioranza del paese era frazionato in regioni più o meno favorevoli per l'unità nazionale mentre le regioni come luchansk e donesk luoghi in cui si erano verificati scontri sponsorizzati dalle forze separatiste russe nel 2014 comunque anche quelle regioni non avevano mostrato un supporto alla russia universale quindi i servizi segreti russi speravano che il frazionamento regionale ucraino avrebbe mitizzato un eventuale sdegno conseguente all'invasione e questo forse poteva valere fino al 2014 ma dopo l'annessione della crimea e le votazioni che avevano eletto politici europeisti la musica nel paese era un tantino cambiata e forse la russia poteva ancora pensare di salvare la percentuale di popolazione filo russa nell'est del paese ma nel 2019 con la vittoria di zelensky la corrente filo occidentale ebbe un sostegno molto più ampio nonostante questo la russia poteva contare su una rete di sostenitori in tutto il territorio ucraino che nel frattempo avevano lavorato a lungo avevano fornito dati militari sensibili e pianificato un vero e proprio golpe di stato post invasione la situazione divenne così grave che zelensky avrebbe licenziato da lì a poco il capo dei servizi segreti ucraino a luglio del 2022 la russia fra l'altro credeva che lo zelensky fosse una fonte di debolezza per l'ucraina considerandolo più un attore che un politico che sarebbe fuggito subito in occidente fondando un governo in esilio insomma per l'intelligence russa il piano di invasione aveva la strada spianata e facile un poco come quello che avvenne nel 2003 in iraq con gli stati uniti che spazzarono via la resistenza irachena in poche settimane aspettandosi che gli ucraini si sarebbero comportati come i soldati iracheni che disertarono in massa perché pensavano che comunque saddam non fosse un leader che valesse la pena difendere e soprattutto pensando di non avere nessuna possibilità contro un esercito dalla forza così schiacciante se questa teoria era giusta l'unica cosa che avrebbe preoccupato la russia una volta dominato l'intero territorio ucraino rappresentava la possibilità di una guerriglia successiva lunga ed estenuante di pochi partigiani ucraini in questo senso gli stati uniti la vedevano allo stesso modo e infatti si preoccuparono proprio di questo risultato concentrando i loro sforzi per aiutare gli ucraini su come massimizzare l'efficacia della guerriglia dopo la sconfitta queste previsioni per quanto ottimistiche comunque avrebbero dovuto mettere in allarme il cremlino cioè guardando indietro alla storia umana lasciando perdere saddam che era un pazzo sanguinario e l'irak che non poteva di certo essere paragonato all'ucraina proprio la storia e anzi proprio la storia russa insegna che prima o poi gli invasori vengono cacciati e se anche così non fosse dovranno comunque confrontarsi con generazioni di odio e insofferenza nei loro confronti in sostanza non c'era un solo buon motivo valido per pensare che l'ucraina volesse essere liberata anzi proprio con un'azione di forza violenta l'orientamento politico si sarebbe spostato nettamente in loro sfavore ma bisogna sempre ricordare che putin controllava i media quindi una guerra di invasione per quanto sanguinosa si poteva sempre raccontare nella narrazione mediatica come una campagna piena di vittorie e senza perdite e non a caso infatti la televisione russa ci ha mostrato esattamente questo in due anni di conflitto inoltre i russi in qualche modo erano pronti ad una campagna militare anti guerriglia negli anni 80 avevano avuto la loro bella esperienza in afghanistan prima di ritirarvisi perché insostenibile sul lungo termine e poi l'ucraina da un punto di vista di orgoglio nazionale era stata parte della russia fino a qualche anno prima quindi secondo putin i soldati si sarebbero sentiti più motivati per combattere nella conquista di chiede quindi queste considerazioni ottimistiche e di ampia sottovalutazione degli aspetti politici e culturali dell'ucraina rappresentarono il secondo errore del servizio di informazione russo ma a questo punto uno direbbe possibile che fra i leader militari russi nessuno abbia previsto quello che sarebbe successo no putin non ha mai ricevuto dei buoni consigli dai suoi generali premesso che comunque non è proprio facile fare delle previsioni precise su come andrà una battaglia figuriamoci una guerra questa qualsiasi stratega sa benissimo che tutto può cambiare in corso d'opera e la guerra poi non si vince tirando i dadi come a risico un po semplicistico pensarla così i leader militari russi credevano che sulla carta le forze armate di terra e d'aria sarebbero state in grado di spazzare via la resistenza ucraina sotto tutti i punti di vista e certamente la russia era ed era ancora oggi quasi una superpotenza se vogliamo almeno attenerci alla definizione da vocabolario con più di un milione di soldati attivi contro i 209 mila dell'ucraina più di due milioni di riserve contro i 900 mila dell'ucraina una spesa di 62 miliardi di dollari per l'apparato militare contro i 6 dell'ucraina quindi 10 volte tanto 8 mila carri contro mille 1400 aerei da combattimento validi contro 100 queste differenze erano esagerate voglio dire la russia da sola è tre volte tanto è molto più forte nei numeri di qualsiasi altra singola nazione europea alla fine ovviamente la russia non poteva schierare tutto il suo arsenale in ucraina doveva anche pensare a difendere i suoi confini da eventuali opportunisti come la finlandia gli stati uniti la giorgia la nato in generale senza considerare anche la cina che per carità è grandi amiconi e tutto ma come si dice fidarsi è meglio ma non fidarsi no forse l'ho detto male e putin si era dimostrato così orgoglioso comunque del suo nuovo arsenale modernizzato che aveva costruito e di cui si vantava sempre a livello internazionale un nuovo esercito libero dall'eredità sovietica che ne aveva contaminato la nascita ma come dire chi ne capisce di materia militare non si lascia abbindolare dalla propaganda di regime sa che c'è tanta fuffa nella propaganda chi conosce le tecnologie militare e i problemi che hanno tutte le nazioni ne conosce anche i limiti e se c'è una cosa che la russia non è mai riuscita a eliminare dai tempi almeno dell'unione sovietica è l'abitudine a spararle grosse è naturale che tutti i politici tendino a esagerare le proprie capacità militari offensive fino a quando almeno devi fare dei piani strategici concreti e questa è un'arma a doppio taglio i vertici militari russi a quanto pare credevano troppo a quello che dicevano soprattutto l'annessione della crimea avvenuta senza quasi combattere solo con scontri minori aveva fatto sentire putin troppo confidente nelle proprie forze militari o nelle proprie capacità strategiche e geopolitiche il caos che la perdita della crimea aveva generato a kiev e la sponsorizzazione dei separatisti nelle regioni a est luhask e donesk con questi omini verdi che venivano come almeno venivano chiamati dai locali che non avevano distintivi sulle loro uniformi e che combattevano contro le truppe in trincea ucraine nel 2022 la situazione aveva raggiunto uno stallo che apparentemente mandava segnali positivi al cremelino soprattutto perché l'operazione non essendo ufficiale non aveva avuto neanche il supporto aereo quindi i generali potevano solo immaginare l'enorme successo militare che avrebbero potuto avere in una campagna aperta alla luce del sole con tutti gli assetti schierati in campo con i missili l'aviazione e la marina al completo e a questo poi si aggiungeva la grande fiducia nei collaborazionisti ucraini e nell'idea del tutto infondata che il popolo non si aspettava altro che essere liberato il piano prevedeva inizialmente la distruzione delle difese aeree su tutto il territorio ucraino posizioni che erano state condivise proprio dai collaborazionisti questa soppressione delle difese aeree avrebbe così permesso il dominio in contrastato dei cieli da ovest a est da nord a sud da parte dell'aviazione russa questa cosa ovviamente poi non si è mai verificata a quel punto l'esercito avrebbe avuto campo totalmente libero per una mobilitazione aerea e di terra con i piani che prevedevano l'arrivo nella capitale a kiev tra le tre del pomeriggio e la mezzanotte del primo giorno delle operazioni questo piano da battaglia la dice proprio lunga sulle capacità strategiche russe per intenderci per conquistare berlino c'era voluto un anno e un bagno di sangue partendo dalla normandia roma è stata liberata dagli americani dopo un anno di guerra partendo dallo sbarco in sicilia e poi ad anzio tutte queste azioni militari comunque erano state condotte prima con intensi bombardamenti e anche nella guerra moderna l'irac aveva subito due campagne militari negli anni 90 prima e di un'enorme offensiva di terra nel 2004 con l'aviazione americana che aveva raggiunto già da tempo un'incontrastata superiorità aerea e quindi putin credeva davvero di conquistare kiev il primo giorno ma soprattutto è interessante anche sapere che i servizi di intelligenza americana che avevano ampiamente previsto questa invasione si aspettavano un'ucraina spacciata che avrebbe perso subito insomma i servizi di intelligenza americana si aspettavano che la russia avrebbe vinto la guerra in breve tempo questo pessimismo dovuto appunto l'enorme differenza nei numeri in campo avevano portato proprio gli stati uniti a preparare l'ucraina per una guerra del giorno dopo una guerra sotterranea di guerriglia diciamo così credevano che l'ucraina non fosse assolutamente preparata per una guerra tradizionale e tantomeno capace di opporsi ai numeri dell'invasione russa e nei fatti del primo giorno fra l'altro c'è un episodio che cambierà completamente il corso degli eventi che se lo prendiamo e lo fotografiamo come singolo momento storico in teoria avrebbe permesso alla russia di conquistare kiev e far capitolare il suo governo ma come si dice la storia non si fa con i sé e con i ma la storia della battaglia dall'aeroporto di ostomel questo aeroporto minore presso la piccola cittadina di ostomel nella periferia a nord ovest di kiev era noto come l'aeroporto degli antonov a causa del fatto che fosse la sede della compagnia costruito nel 1959 era un aeroporto senza pretese noto solo per il fatto che ospitava il più grande aereo del mondo l'antonov 225 che fra l'altro era un enorme motivo di orgoglio nazionale per il popolo ucraino la capitale kiev a pochi chilometri comunque aveva i suoi principali ai suoi due principali aeroporti per il traffico internazionale mentre ostomel serviva essenzialmente per i voli cargo l'antonov 225 aveva avuto i suoi giorni di gloria trasportando per esempio il buran sovietico la loro versione dello shuttle di cui fra l'altro ho parlato proprio nel video precedente ma i giorni di gloria dell'unione sovietica erano finiti e il 225 riposava nel suo hangar presso questo aeroporto l'ultimo volo era stato fatto durante la pandemia di covid quando aveva trasportato 80 tonnellate di test dalla cina alla derlimarca durante le prime ore dell'invasione avvenuta contemporaneamente in più settori da nord dai confini bielorussi i reparti meccanizzati di mosca distavano appena 150 chilometri dalla capitale kiev e i suoi aeroporti che sarebbero potuti diventare una base di partenza per le operazioni successive ma i due aeroporti principali erano circondati dall'area metropolitana che poteva trasfermarsi in un pericolo e uno di questi non aveva comunque piste abbastanza lunghe per gli aerei militari più pesanti da qui la scelta più ovvia era proprio hostomel con i suoi 3500 metri di pista isolato era perfetto per le operazioni militari e fuori abbastanza dal perimetro difensivo di kiev con una guarnigione di appena 300 guardie armate giusto così per modo di dire mentre il grosso delle truppe ucraine e reparti erano schierati a est nel donbass insomma i russi non si aspettavano resistenza e si aspettavano di conquistare l'aeroporto facile facile hostomel era inoltre posizionato dal lato opposto all'aeroporto internazionale di boris il anche questo come era un obiettivo papabile con due piste una di 3500 e l'altra di 4000 metri ma non è chiaro perché i russi non fossero interessati a questo aeroporto che all'inizio dell'operazione militare piuttosto che conquistarlo si limitarono a bombardarlo una spiegazione è che i russi avessero previsto di procedere verso sud restando sulla propria sulla sponda ovest del fiume dnipro rendendo così hostomel la scelta più ragionevole e logisticamente più semplice boris pil poteva essere conquistato magari in un secondo momento essendo anche un po più lontano il piano comunque era semplice portare truppe e mezzi e conquistare l'aeroporto farvi atterrare gli inforsi e materiali e tutto il necessario per fortificarlo e da lì portare avanti attacchi aerei e avio trasportati di terra per conquistare immediatamente la capitale una volta presa la capitale tutto il resto sarebbe stato in discesa con il governo costretto a fuggire e il paese ad arrendersi e capitolare da lì non sarebbe rimasto altro che piazzare un governo fantoccio e tornare a casa per le vacanze di pasqua tre ore dopo l'annuncio di mobilitazione fatto in televisione da putin alle 8 del mattino un gruppo di elicotteri milotto con centinaia di soldati russi a bordo si avvicinava all'aeroporto scortati e supportati dal fuoco di sbarramento di un gruppo di k-52 alligator questi proprio servivano per annichilire le difese d'aeroporto e permettere lo sbarco sicuro dei soldati a terra per le truppe ucraine in quel momento tutto questo era un'esperienza completamente nuova colti di sorpresa abituati a una guerra di trincea come quella del dunbas non si aspettavano di certo un attacco aereo e i russi sapevano fra l'altro benissimo dove si trovavano le difese della base per informazioni passate appunto dagli informatori e le hanno distrutte proprio per prime nonostante questo i soldati ucraini riuscirono ad abbattere un k-52 ma questo non fermò l'azione russa pochi minuti dopo i milotto schieravano così i loro paracatutisti a nord della pista e iniziava così una battaglia contro 300 soldati della guardia nazionale ucraina che non avevano ovviamente nessuna chance di competere con un'azione combinata aerea e terrestre senza munizioni e possibilità di resistere i soldati ucraini decisero di ritirarsi lasciando così all'esercito invasore il controllo dell'aeroporto a questo punto una flotta di il 76 gli aerei da trasporto truppe non dovevano fare altro che atterrare ed era solo una questione di minuti prima che arrivassero pieni di soldati e mezzi la avrebbe potuto schierarli e tenere sotto scacco la capitale far capitolare il governo come minimo e finire la guerra la storia di questa battaglia è un po passata in secondo piano nel racconto degli eventi cioè non è passata sui telegiornali come per esempio altre battaglie più famose a Kherson, Kharkiv, la centrale di Chernobyl e Kiev stessa e certo tutti hanno visto le immagini dell'Antonov 225 distrutto ma cosa è successo realmente? Se vi interessa cercate voi stessi per esempio su wikipedia si chiama la battaglia dell'aeroporto degli Antonov. Secondo tantissimi articoli internazionali fra cui il Times, il Washington Post, il Wall Street Journal e altri è proprio in questo momento e in questa battaglia che vengono fuori tutti gli errori più gravi di valutazione degli strateghi russi e soprattutto un altro dettaglio non meno importante. Se vi ricordate quanto ho detto prima gli Stati Uniti avevano previsto già a gennaio del 2022 con largo anticipo l'invasione russa e in qualche modo nonostante questo avevano dato l'Ucraina per spacciata. Vi ho anche detto che era iniziata una sorta di preparazione per una guerra da giorno dopo, giusto? Con il direttore della CIA, Barn, che andò direttamente a Kiev per informare Zelensky della gravità della situazione e per prepararlo alla guerra di resistenza, diciamo così. Ma la sua visita a Kiev non fu solo di cortesia e parole, fu accompagnata anche da un bellissimo fascicolo contenente tutti i dettagli del piano di invasione russo. Come siano riusciti gli americani ad ottenerlo non si sa, ma ecco oltre a questo c'era poi un budget nascosto di 50 miliardi di dollari all'anno che finanziava fra le altre cose anche la raccolta dei dati di intelligence. E quello che accadde infatti è che gli ucraini sapevano benissimo che l'aeroporto di Ostumel sarebbe stato il primo ad essere attaccato e come dire si erano preparati. 300 soldati non erano ovviamente sufficienti a difendere l'aeroporto ma esisteva un piano di riserva, una sorta di backup. Inoltre se i russi avessero visto un dispiegamento massiccio di difese e unità si sarebbero accorti che qualcosa non tornava, quindi in qualche modo dovevano sapere che gli ucraini non sospettavano di nulla. E questo come dire per le truppe che erano appena sbarcate e credevano di aver conquistato l'aeroporto fu una bella sorpresa perché si ritrovarono scoperte e vulnerabili per quello che gli stava piombando addosso. C'erano poi il modus operandi russo che dimostrò dei punti vulnerabili nella strategia russa, qualcosa che ancora oggi dopo più di due anni di conflitto fa sgranare degli occhi agli analisti militari, una sorta di ingenuità strategica che vedremo fra poco. Nel momento in cui i paracadutisti russi si erano schierati sull'aeroporto erano completamente privi di qualsiasi mezzo di supporto di terra, non c'erano mezzi con loro, veicoli blindati o carriarmati, erano completamente soli e da soli avrebbero dovuto difendere l'aeroporto a lungo, almeno fino all'arrivo degli aerei cargo. La Russia aveva lanciato il suo attacco così, in questo modo, con una breve SIAD dei K-52 accompagnata subito dopo dai paracadutisti. Tutto contemporaneamente, quando in teoria in una campagna militare avrebbe dovuto indebolire le difese ucraine per giorni, con attacchi aerei e messinistici, messi da crociera, prima quantomeno di far arrivare le truppe. Cioè proprio non lanciare mai tutto quanto insieme contemporaneamente. La Russia si era impegnata in una invasione di terra. Dal primo giorno tutta l'idea della sua campagna militare si basava sul rapido ritiro e cedimento del popolo ucraino. E questa è stata la dottrina del tutto avanti per la vittoria finale, fino ad oggi da parte russa, incuranti dell'esistenza ucraina, incuranti delle perdite subite. Mosca aveva fatto i conti senza l'oste, confidando che il popolo li avrebbe accolti a braccia aperte e senza opporre l'esistenza. E queste idee, ovviamente, erano completamente sbagliate. Il 24 febbraio, con i minuti che scorrevano e le truppe russe che rivendicavano l'aeroporto in attesa degli aerei da trasporto pieni di truppe e mezzi e rifornimenti, in quel momento l'esercito ucraino organizzò il suo contraattacco. Il comandante delle forze di terra ucraino Valery Zalusky inviò la cavalleria che includeva le forze speciali ucraine, una brigata meccanizzata, una brigata di reazione rapida, e la legione georgiana fondata nel 2014. Gente incarognita, con il dente molto, molto avvelenato, che non aspettava altro che regolare i conti con la Russia dopo i fatti georgiani del 2008. Ulteriore supporto arrivò poi dall'artiglieria che iniziò a mirare l'aeroporto, trasformandolo in una pioggia di fuoco. Nel frattempo, Su-27, MiG-29 e Su-25 ucraini iniziarono a martellare la pista e gli hangar, qualsiasi cosa che potesse rappresentare un rifugio, e impedendo l'arrivo degli elicotteri nemici. Le truppe speciali russe, scusate, le truppe speciali ucraine si approcciarono all'aeroporto da ovest, ostacolati però dal muro di cinta e dal tiro dei russi. Per un breve momento la situazione sembrava in stallo, ma per poco, perché poco dopo infatti arrivarono nel loro supporto le truppe meccanizzate da sud e da nord. L'aeroporto così era circondato con i suoi occupanti all'interno, e fu chiaro che nessun aereo avrebbe potuto atterrarvi, era proprio fuori discussione. Sopraffatte e prive di qualsiasi copertura, le truppe russe furono costrette a fuggire nei boschi adiacenti. Secondo un diario recuperato nei giorni successivi e poi pubblicato dal New York Times, un numero di 300 paracadutisti russi è morto in questa prima battaglia. Alla fine del primo giorno di invasione l'Ucraina aveva ripreso il controllo dell'aeroporto. Il giorno successivo una colonna russa proveniente dalla Bielorussia raggiunse Kostomel e questo fu il preludio di quello che il mondo poi ha conosciuto come il convoglio di Kiev. Lo stesso che poi a giugno 2022 sarà riconosciuto come responsabile dei crimini di guerra e delle fosse comuni piene di civili e la distruzione dei villaggi interamente. Con una forza numerica schiacciante l'esercito ucraino si ritirò a sud ma non senza opporre una violenta resistenza che è stata poi ampiamente documentata in quei giorni di guerra. L'aeroporto così tornava in mano russa restandovi per un lungo periodo di tempo ma durante le azioni iniziali il fuoco di artiglieria, il sabotaggio e il bombardamento ormai dell'aeroporto non restava più nulla, la pista era stata completamente distrutta e inutilizzabile così gli hangar e infatti le immagini dell'Antonov-225 completamente distrutto fecero il giro del mondo nei giorni successivi. Il convoglio russo di Ostomel non andrà poi molto più avanti fermandosi nei paesi circostanti, gli ucraini riuscirono a mantenere la pressione e non raggiunse mai Kiev il suo obiettivo previsto. Un mese dopo, il 29 marzo, la Russia annunciava il ritiro dal fronte a nord-ovest. In questo modo la capitale Kiev e la sede del suo governo non era più minacciata. Non sappiamo se la reazione ucraina sull'aeroporto di Ostomel ebbe l'effetto o meno di una dose di verità e realtà ai vertici militari russi e a Putin. Possiamo fare ipotesi e speculazioni attribuire le colpe di un errore strategico alla linea di comando russa o al fatto che Putin si è abituato a circondarsi da adulatori e yes-men che non possono contraddirlo, al fatto che i vertici militari sono abituati a competere fra loro per garantirsi una scalata sociale, ma di sicuro al di là degli errori tattici e del modus operandi delle forze armate russe che hanno dimostrato enormi limiti di operatività, è un fatto concreto e storico che Stati Uniti ed Europa poi non hanno preso per niente bene l'invasione russa dell'Ucraina. Come dire, è stata infranta una regola tacita che non veniva violata dalla seconda guerra mondiale, invadere un paese. E nel 2024 cosa ti aspettavi che accadesse come reazione. Il mondo è pieno oggi di nazioni pronte a schierarsi per una giusta causa e Putin, come dire, quella causa l'ha servita su un piatto d'argento. Tanto più che le azioni contro i civili inermi hanno generato ancora più odio verso i russi da parte ucraina, altro che simpatia. L'Ucraina si è dimostrata resiliente e tenace e si è radunata attorno alla sua bandiera. Probabilmente qualcuno nei servizi segreti russi avrà cercato di dire la verità, di far presente che forse, dico forse, la guerra all'Ucraina sarebbe stata uno sbaglio, ma quando un leader politico zittisce gli oppositori mandandoli in Siberia, avvenelandoli, o peggio, è chiaro che le informazioni che gli arrivano sul tavolo sono quelle che vuole sentirsi dire, piuttosto che quelle che dovrebbero essere affidabili. Ancora peggio, i consiglieri non provano neanche a impegnarsi per dedicare tempo e risorse per ottenere le migliori informazioni, perché tanto il capo vuole sentirsi dire solo buone notizie. Questo può sembrare assurdo e una follia, ma appunto la storia umana è piena di esempi del genere. Putin è solo uno dei tanti dittatori che applica questo metodo e che è finito per essere vittima del suo stesso medito e metodo, perché genera così un circolo vizioso che ti autodistrugge e fa riflettere che all'inizio della sua carriera non era molto consapevole di questo, perché furono eclatanti i suoi interventi in certe fabbriche con lo scopo di estirpare la corruzione riavviandone la produzione. Ma questo circolo vizioso che viene instaurato con la paura alla fine ti si ritorce contro ed è la natura stessa di una dittatura a farlo, che si circonda sempre di personaggi meschini e di mediocrità, porta inevitabilmente al fallimento del paese. E vi invito, fatemi un solo esempio di dittatura finita bene nella storia umana. Consapevole o meno di questo, il grande uomo politico e genio Putin alla fine ha mostrato al mondo che il desiderio di reprimere le voci fuori dal coro, i dissidenti, la libertà di stampa, gli sfidanti politici, gli si è ricorso contro. Cosa che fra le altre cose al cremlino non è nuova, ha una lunghissima tradizione. Nella loro mentalità chi esprime un'opinione diversa viene immediatamente bollato come un rischio, un dissidente. E non importa se poi questo ha le intenzioni o meno di concorrere ad una carriera politica, ma appunto quando ti circondi di persone che ti assecondano in continuazione e ti svegli una mattina con il chiribizzo di invadere l'Ucraina non treverai nessuno che ti dirà no, Vladimiro, scusa eh, ma questa idea è una grandissima minchiata. E la situazione da lì non fa che peggiorare, perché se le cose poi vanno male, come era ovvio che andasse, e qualcuno inizia a dirsi contrario, è ovvio che questo diventa un potenziale candidato sostitutivo, no? Ora, a differenza di Saddam Hussein, che non si faceva tanti problemi a far fuori la gente in modo plateale, comunque Putin deve rispettare un certo proforma di alcune istituzioni funzionali, cioè non è che può far uccidere i consiglieri nel bel mezzo di una riunione per disobbedienza. Però, ecco, le voci dissidenti del Cremilino possono facilmente scivolare da lunghissime rampe di scale, o cadere accidentalmente fuori da una finestra, o magari bere per sbaglio il tè al Polonio. Quindi, ecco, questo è molto probabilmente il vero motivo per cui i servizi segreti russi non hanno avuto voci discordanti e interne, circa il fatto che il popolo ucraino volesse essere liberato. E i capi di stato maggiore dell'esercito hanno dimostrato lo stesso atteggiamento pigro dei politici e anche peggio. È piuttosto semplice assecondare il sistema piuttosto che sconvolgere l'armonia generata dalla corruzione, no? Lo sappiamo benissimo. La differenza fra la Russia e le altre nazioni ancora una volta sono le istituzioni. Facciamo un esempio, ok? Per capire cosa stiamo dicendo. Immaginiamo, seguitemi in questo ragionamento perché so che molti sorceranno il naso, immaginiamo che le forze armate italiane siano una massa di fannulloni. I cittadini spendono miliardi di euro all'anno in tasse per aeroplani, navi, carri armati e fucili e nel frattempo i nostri soldati ozziano tutto il tempo, non fanno missioni, non proteggono le rotte commerciali, ieri civili, quando arrivano esondazioni e terremoti non si fanno vedere, le tecnologie e i mezzi prendono polvere e nessuno fa nulla, ok? Chi se ne accorgerebbe? In un paese normale uno direbbe i giornalisti, i media, la stampa, giusto? Basterebbe un piccolo gruppo di militari che hanno a cuore il paese per denunciare la cosa e richiamare l'attenzione su tutta la stampa italiana. E voglio dire, il nostro paese, per quanto non sia di certo perfetto, non è mai mancato a denunciare scandali, corruzioni e gravi episodi di nonnismo, tanto per fare degli esempi, per chi se le ricorda. Quindi, se non ci sono generali di stato maggiore, colonnelli, graduati che tengono tutti in riga, perché dal primo all'ultimo sono tutti corrotti, dovrebbero essere i media a fare l'organo di controllo, giusto? Ma come ho detto all'inizio del video, in Russia il governo ha il totale controllo di tutto e la notizia di due giorni fa, che di fatto oscura anche i media europei, dimostra esattamente questo, la paura totale che qualcuno, chiunque, possa dire la verità. Ma se lo stesso Putin non era a conoscenza delle reali condizioni in cui versava il suo esercito, chi poteva saperlo? Gli ucraini lo sapevano. Consapevoli, appunto, dell'invasione imminente e che ci fosse questa reale possibilità, l'Ucraina si è rivolta al servizio di intelligence estera SRZU per indagare sulle reali condizioni dei reparti russi e la loro movimentazione. Nelle settimane precedenti all'invasione, agenti speciali furono inviati in Russia per infiltrarsi nelle installazioni militari. Un team in particolare riferì di aver osservato per giorni militari preparare file su file di carri armati, prepararsi a fare qualcosa, ma a parte questo, di meccanici per la manutenzione non se ne vedeva da nessuna parte, neanche uno, per cui quei carri armati fondamentalmente aspettavano lì ad arrugginire e i soldati che si trovavano nei paraggi erano interessati a vendere di tutto, equipaggiamenti, materiali, pur di acquistare un poco d'alcol. Questo episodio è solo un piccolo esempio per dimostrare che non ci si trovava di fronte al ritratto dell'efficienza e della prontezza tanto decantati dalla propaganda di regime. Due anni fa Putin possiamo dire che non aveva la minima idea delle verità che conosciamo oggi, così come non sapeva che l'Ucraina aveva i fascicoli pronti del suo piano d'azione e che sapeva in che condizioni versava realmente il suo esercito. E certo è troppo facile dire che Putin sia un criminale o un pazzo per lanciare la sua nazione in una guerra che non potrà mai vincere, mentre è più logico invece credere che è stato vittima lui stesso dei meccanismi istituzionali che ha creato in decenni di governo. E lui, tra l'altro, da ex agente del KGB, in teoria avrebbe dovuto riconoscere molto bene le debolezze dell'autocrazia russa, la pigrizia e la corruzione negli organi militari, l'abitudine ad amplificare la reale forza effettiva militare del paese, che poi per carità in questi due anni l'abbiamo visto sostituire in continuazione a generali eccetera, ma proprio non è che sostituendoli risolvi la situazione, ok? Cioè il problema è molto più profondo di così, non basta sostituirli, li sostituisci con altre persone identiche a quelli che c'erano prima alla fine. Del resto non esiste russo al mondo che non vi dirà quanto è corrotto il loro paese, lo sanno tutti, quindi ammesso che quest'uomo si è circondato da adulatori e yes-men, politici e militari corrotti, e che, insomma, non sapesse di tutto questo è veramente impossibile da credere. Ma soprattutto cosa lo ha lanciato, cosa lo ha spinto a autorizzare l'invasione dell'Ucraina? Possiamo rispondere a tre requisiti essenziali, tre possibilità. Il primo è la cosiddetta ambiguità dell'Occidente che, secondo appunto i suoi analisti, non avrebbe reagito. Il secondo motivo erano appunto i tanto decantati sostenitori filorussi in Ucraina. Il terzo elemento favorevole all'invasione poteva essere un'Ucraina militarmente nettamente inferiore alla Russia. E quindi, per questi tre principi, diciamo, lanciare l'invasione sarebbe stato per Putin compiere una scelta e capire se questi tre requisiti venivano soddisfatti e la probabilità che tutti e tre non fossero stati soddisfatti. cioè Putin non avrebbe autorizzato l'invasione se l'Occidente fosse stato risoluto e per niente ambiguo e pronto a intervenire in difesa dell'Ucraina, l'Ucraina non fosse stata fosse stata per niente filorussa, anzi incarognita e determinata, e soprattutto un'Ucraina molto più forte militarmente. Se queste tre possibilità fossero state, diciamo, esaudite, chiaramente Putin non avrebbe lanciato l'offensiva. Secondo i calcoli di Putin, insomma, poteva sbagliarsi su questi tre aspetti, ma evidentemente per lui era molto improbabile che tutti e tre questi punti potessero essere soddisfatti. E così si è lanciato nell'invasione. La terza ragione per cui non ha avuto nessun dubbio su prendere la strada dell'invasione è stata la mancanza di voci fuori dal coro. Entrando in guerra non era chiaro se il paese avesse dovuto affrontare gravi ripercussioni da parte della comunità internazionale, specialmente se si fosse sbagliato su tutti e tre i punti elencati prima. E mi sono chiesto tante volte ma lui, da grande burattinaio, quando guarda gli show televisivi della sua televisione, non lo sa appunto che quegli show fanno schifo e mettono in barazzo la logica dell'intera razza umana? Con tutti che dicono sì sì e annuiscono come pecore? Cioè, lui stesso dovrebbe sapere che è uno show finto. Il momento più epico e trash nella televisione russa si ebbe il giorno dopo aver consegnato gli ordini definitivi ai suoi generali. Putin a questo punto convocò il consiglio di sicurezza russo per discutere l'indipendenza dell'Uansk e Donetsk. In quelle immagini surreali un consigliere dopo l'altro dichiarano annuendo davanti alle telecamere e dicono letteralmente signor sì signore è una grandissima idea e sono proprio immobili ed inespressivi in russovisione e mondovisione anche. Perché ovviamente quelle immagini venivano trasmesse a tutto il mondo senza vergogna. Ognuno di questi individui sarà poi tecnicamente responsabile dei 500.000 soldati morti in due anni di conflitto. Più quelli ucraini e civili ovviamente. Quando il direttore dei servizi segreti esteri, Sergei Naryshlik, esprime, accenna un piccolissimo segno di perplessità e si vede, proprio si vede dalla sua espressione che c'ha quei due neuroni che si ribellano, no? I due neuroni che gli sussurrano piano piano nell'orecchio e gli dicono sì uomo una volta e non una meba. Putin a quel punto lo martella, com'è nel suo stile, no? Mostrandogli tipo la tromba delle scale o la finestra. Dopo alcuni momenti imbarazzanti Narysh, il kin, batte i tacchi e dice signor sì signore non solo dobbiamo riconoscere Luhask e Donetsk come russi ma dobbiamo anche annetterli. E questo è comica la scena. A quel punto Putin dice beh no aspetta dai non esageriamo. Questo non è lo scopo del nostro incontro. E l'altro risponde allora mi scusi signore, signor sì sono d'accordo con lei al 100%. E questa mossa di Putin fu geniale perché con questa riunione apparente di un consiglio di sicurezza che poi in realtà non è, davanti alla televisione russa ha scaricato le responsabilità anche agli altri elementi del governo, mettendoli in mezzo rendendogli praticamente dei perfetti capri espriatori da sacrificare in caso di necessità. Quindi per concludere questo discorso e non voglio entrare nel merito di presunte malattie e speculazioni sul suo stato di salute che ne avrebbero pregiudicati il giudizio anche se in realtà mi piacerebbe che fossero vere perché ci sarebbe almeno la speranza che si ritirasse dalla scena politica prima di premere i bottoni rossi. Per un lungo riposo magari credo che alla base di questa scelta ci sia una combinazione di tutti e tre i fattori che ho elencato. L'incapacità di prevedere la reazione dell'Occidente all'invasione, la sopravvalutazione della propria forza militare e nessuna istituzione di governo o garante in grado di consigliarlo. E questo è quanto queste considerazioni a volte personali, me ne rendo conto, le ho riscontrate nelle parole di tanti altri canali di analisi militare per cui immagino si possa essere d'accordo o meno sui dettagli ma in linea di principio questo è quello che sta succedendo e che è accaduto. E per il modus operandi delle forze armate russe e le modalità con cui vengono prese le decisioni al Cremlino insomma questa è la realtà e non se ne vede una fine. E questa era la prima parte, nel prossimo video mi occuperò dei numeri del conflitto per capire fino a quando la Russia sarà in grado di sostenere questa iniziativa, cosa dovremmo aspettarci insomma. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, come sempre un abbraccio, alla prossima! Grazie a tutti!